in assoluta anteprima telegram una parte della collezione degli artusi anti un termine neologismo coniato da me per questa collezione di multipli d'arte mix media art perché sono state utilizzate le più svariate tecniche partendo da un prototipo multipli perché comunque si rifanno sempre alla prima immagine prima che avete visto ma poi vengono declinati in maniera totalmente diversa utilizzando quindi l'olio l'acquarello l'inchiostro i pastelli i pastelli ad olio ma anche il colore ad olio e ogni artusiante reca un cartiglio con una massima di pellegrino artusi nel quale si celebrano i 200 anni quest'anno bicentenario la nascita della morte questo vuoi cercarlo così vi lascio un piccolo compitino a casa ma la collezione prosegue ciao